Il tocco corto per De Jong che è stato precedentemente ammonito l'ennesima ammonizione per un giocatore stasera qui alla Dallara francamente non faremmo in tempo a delincarvi tutti i giocatori che sono finiti sul tacchino dei tacchiri dei cattivi del signor talevento preferiamo continuare a narrare l'azione in diretta Tacchino dei tacchiri, 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 tacchiri